è stato un bel film angelina vero si papà voglio incontrare mercoledì sì ti credo angelina beh esprimi un desiderio forse un giorno la incontrerai ok sì e non dimenticarti la mano sai oh no grazie papà mercoledì giovedì e venerdì bel film ok angelina forza entriamo in macchina sono qui va bene mano seguili papà andiamo a casa adesso certo angelina perché me lo chiedi niente papà ehi ragazzi vi è piaciuto guardare mercoledì beh naturalmente se avete visto qualche episodio scrivetelo qui sotto nei commenti quale episodio vi è piaciuto di più e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale anglicosic vi voglio bene ragazzi sai angelina penso che mercoledì non sia un film adatto ai bimbi io per esempio non so l'avrei classificato come un 18 più è stato un film molto spaventoso andiamo a casa angelina angelina chiudi la porta per favore ok 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 angelina angelina che succede cosa c'è cosa c'è stai bene angelina nel bagno che cosa c'è cosa c'è lì nel bagno quella è mano che cosa la mano angelina non c'è nessuno lì dentro stai bene sapevo che eri troppo piccola per quel genere di film stanne pur certa sarà la prima e ultima volta che guarderai film del genere ok adesso però mi preparo per andare a dormire penso che sia proprio un'ottima idea buonanotte angelina buonanotte e papà angelina angelina che cosa ti succede che cosa succede non c'è nessuno angelina che cosa vedi non c'è nessuno angelina non c'è nessuno lo capisci è così non ti porterò mai più a vedere un film horror insieme hai ragione ora vado a letto ok vado a dormire sì molto bene brava vai a dormire beh e se vuoi posso rimanere un po con te angelina no no sto bene bene buonanotte angelina buonanotte papà papà sì angelina per favore mi dai la luce piccola ma certamente angelina ecco a te angelina grazie papà ti voglio bene buonanotte anche io ti voglio bene angelina ma chi è sono io sono mercoledì oh mio dio è un sogno sei tu che hai espresso questo desiderio cosa hai sentito i miei desideri sì angelina dove è mano beh l'ultima volta che l'ho vista era laggiù da quella parte ehi mano dove sei se ne è andata mercoledì sono felice di vederti anch'io ma non dire a tuo padre che sono qui ok e adesso è molto tardi posso restare con te certo puoi dormire lì oh che bello spero di trovare mano domani certo ti aiuterò io oi Che cosa? La mano. Angelina. Oh mio dio. Angelina, buongiorno. Angelina, svegliati. Angelina, dove sei? Angelina! Angelina! Angelina, svegliati.